ben ragazzi e benvenuti su gamespoint oggi andremo a fare secondo episodio di super meatboy bene quindi andremo a concludere il primo mondo e se ci riusciamo vediamo di concludere anche il secondo quindi possiamo iniziare al solito noi giochiamo con un joystick solo io salto e lui muove il nostro pezzettino di carne e l'altro è una palla di mestolo però vabbè possiamo cominciare quindicesimo livello allora perfetto allora qua sotto devi andare giù poi saliamo su e scendi di nuovo grandissimo scendi fiano vai sali ok perfetto il primo è andato prima è andato a posto sb 1 2 3 adesso momento 1 2 3 perfetto piano perfetto 1 2 questo qui è stata una cagata grandissimo seguiamo con il 17 adesso è il 17 no piano vai piano ok perfetto sali su dobbiamo andare dove cazzo di mano piano fermo qui aspetta vai oh risaliamo salvo adeggio in calcio piano aspetta allora mettiamoci mettiamoci qui vai ma perché torno indietro hai perso in calcio ho sbagliato vai no perché ce l'ho vai adesso il desiderio perché è questa cosa vai sali su 1 2 via vai complimenti vai ci riusciamo a salire le sole si no vai vai cazzo di Buddha si alternativo però ce l'abbiamo fatto ah comunque volevamo dirvi che comunque abbiamo visto che la serie sul sul computer per quanto poche visual ovviamente abbiamo pochi iscritti vi è vi è piaciuto abbastanza ci sono stati abbastanza visual abbastanza like quindi se magari anche avete domande domande o volete sapere come fare qualcosa nei limiti certo dell'evoluto vabbè quindi la risidatea chiederlo ma tu che stai giocando solo impazzito muori se resti lì in mezzo proviamo no ottimo c'era dai l'intenzione io non devo porre parlo senza porre perché salti tu non puoi si ok attenzione con calma fermati no questo qua questo livello è più difficile senza ringorso di una suona attenzione no messa ma rimaniamo tracciati anche se no no ma se saliamo saliamo dal muro saliamo da lì e superiamo proprio akab no no sali sul muro si ho capito se ti giri di là magari tu devi girarti ah giusto ok 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 yes adesso ricorsa akab proprio mezzo livello no forza ok ah la precisione allora senza saltare senza accelerare ci sei vai manca poco aspetta la precisione vai si 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 salta qua vai fermo aspetta vai fermo fermo vai si aspetta e quindi aia questo è quello bastardissimo vedi questo deve prendere qualcosa è è preso questo è il volento buono ce la facciamo ce la facciamo ce la facciamo c'è ooooh allora fermati allora fallo cadere e spostati fallo cadere e spostati facci fallo cadere ok aspetta vai ok fallo cadere e spostati ok eeeh aspetta vai ce la facciamo ce la facciamo ce la facciamo lo so fallo cadere e spostati aspetta aspetta vai good job perfetto eeeh questo cos'è cos'era ok siamo al boss boss finale boss finale del primo mondo del primo mondo ok dai 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 allora perchè sto giocando da solo si in effetti vai forza forza no 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 con calma piano perchè altrimenti qua facciamo un bordello ok ragazzi ormai siamo diventati troppo precisi cioè ho capito che si suicidano piano no merda questa è molto buona comunque questa oh oh con calma cosa è successo forza no no all'ultimo no all'ultimo no no all'ultimo no ah ma quindi quella era la fine ah hai sprintato e forse è così dobbiamo guadagnare del vantaggio tanto vantaggio perfetto sprint anche qualche volta torni indietro ma non ce la facciamo ce la facciamo sali sali no 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 è la volta buona è la volta buona ragazzi consigliateci anche qualche altro giochino da fare ci siamo torni indietro perfetto sì trattieni trattieni la bestemmia con cautela no ma ci abbiamo abbiamo un penesegante alle spalle un enorme penesega dietro un enorme penesega dietro sai perché ci stai inseguendo? quelle segre laterali dovrebbero essere le balle che gli abbiamo fatto girare tanto forte a me sono diventato delle segre attenzione attenzione vai forza forza torni indietro perfetto sì questa è la volta buona torni indietro salto incredì no fermo stiamo perdendo troppo tempo stiamo ce la facciamo ce la facciamo no prova prova no no è fatto sì si è bloccato tutto inspiegabile foto 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 boom so mamma mia secondo mondo mamma mia andiamo dai